Ciao bambini, come state? Oggi vorrei mostrarvi come costruire questo tamburello. È formato da due dischetti di cartone sui quali sbattono questi bottoni infilati all'estremità di uno spago. I dischetti sono assolutamente personalizzabili. Potete disegnare soprattutto quello che volete, tutto quello che più vi piace. Pronti a costruirlo insieme a me? Per costruire il tamburello abbiamo bisogno di cartoncino, forbici, spago, bottoni, abbastanza grandi, anche di varie misure. Oppure potete utilizzare delle grosse perline o palline forate, uno stecchino di legno, colla vinilica. Per prima cosa dobbiamo ricavare dal nostro cartoncino due dischetti di uguale misura. Possiamo aiutarci ricalcando il contorno di un bicchiere. Se non avete dei fogli di cartoncino, potete utilizzare una vecchia scatola di scarpe, oppure le confezioni della pasta o dei cereali. Ritaliamo i due cerchi facendoci aiutare da un adulto. Ora prendiamo lo spago. Per tagliarlo dalla lunghezza giusta, avvolgiamolo due volte attorno ad un dischetto di cartone, in modo da ottenere un filo lungo il doppio del diametro. Una volta tagliato lo spago, dovremo inserire ed annodare all'estremità i nostri bottoni o le nostre perline. Assicuriamoci che il nodo sia ben stretto, sia da una parte e dall'altra. È giunto il momento di spalmare su entrambi i dischetti uno strato abbondante di colla vinilica. E' molto importante incollare bene anche i bordi. Posizioniamo il primo dischetto con lo strato di colla verso l'alto. Centriamo ed appoggiamo sopra lo spago e facciamo lo stesso con lo stecchino di legno. Prendiamo il secondo dischetto e lo incolliamo sopra il primo, esercitando una forte pressione su tutto il cartoncino. Lasciamo asciugare la colla per una notte intera. Una volta che la colla sarà asciutta, potrete disegnare e colorare sopra i vostri tamburelli, ma soprattutto potrete suonarli. Musica, musica, ciao, ciao, ciao.